Ciao a tutti e bentornati sul canale. In questo video vi mostro come realizzare delle tovagliette in tema natalizio. Ovviamente lo stesso metodo può essere applicato per qualsiasi ricorrenza, cambiano magari i colori o la forma. Per realizzare le mie tovagliette natalizie ho bisogno di tovagliette rettangolari, queste sono 20x30, del nastro decorativo, un taglierino, una forbice, una matita e un vecchio giornale. Incomincio prendendo le misure. Ho deciso di fare un taglio ogni tre stelle, quindi segno con la matita tutti i punti. Grazie. Con il taglierino, facendo molta attenzione, incido la tovaglietta. Per evitare danni, la tovaglietta l'ho posizionata su un vecchio giornale. Se anche voi scegliete delle tovagliette in panno lenci o feltro, procedete facendo un solco con il taglierino e poi tagliate a misura con le forbici, in base all'altezza del nastro scelto. Ora inserisco il nastro tra le fessure, lasciando una linguetta all'inizio ed una alla fine. Grazie. Fisso così le estremità con della colla a caldo, facendo attenzione a non scaldarmi. Il mio video termina qui. Spero vi sia piaciuto. Mi raccomando, lasciatemi tanti pollici in su. Condividetelo, provatelo e fatemi sapere cosa ne pensate con un commento. Vi lascio qui accanto i video precedenti e per non perdere nessun video iscrivetevi al canale e seguitemi sui social. A presto!